Ragazzetto, live per voi, è uscito un EP da pochi giorni in digitale su iTunes e Spotify e tutti i vari distributori, Amazon e compagnia bella, si chiama Vittime del Giro perché lo siamo un po' tutti, non vittime del nostro Giro e lei non lo era, lei si chiama Vallea ed era una donna libera e questo pezzo è dedicato a lei Il mio posto sulla terra, lo hai deciso che mi hai preso con le rotate e lo hai tirato su che mi insegnavi tutte le noti e ad usare la mia voce così l'occa e storza nella notte non volevo mai andare da più 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 non volevo mai mi sono perduto come un bambino mi sono perduto non volevo mai 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 non volevo mai